Un altro appuntamento streaming importante sarà domenica 3 di gennaio il concerto di Capodanno, un apportamento ormai classico ovviamente dal Teatro della Fortuna con l'Orchestra Sinfonica Rossini che avrà come direttore Agiman. L'evento del 3 è il concerto di Capodanno, è stato collocato in questa giornata, è domenica, sarà alle 12 perché quest'anno al teatro si parte con la prosa, però è stato di comune accordo questo palinsesto e avremo la grande orchestra. Saranno 45 elementi diretti come sempre dal nostro direttore artistico Daniele Agiman, eseguiremo le preludes di Liszt, quindi un bel pezzo importante, poi di Strauss abbiamo trovato un waltzer che si intitola Immagini di Carnevale e quindi in questa occasione ci sarà una piccola sorpresa per celebrare quello che è uno dei tratti distintivi della nostra città, cioè il Carnevale. Poi eseguiremo il nostro buon Rossini e anche Puccini con un tenore Domenico Menini davvero molto bravo che ha iniziato una splendida carriera.